Era appena iniziata la primavera nella bella penisola e per Silvio Berlusconi era una giornata di merda come tante altre. La magistratura continuava a stargli alle calcagna. Io ho la fortuna di avere potuto spendere più di 200 milioni di euro per consulenti e giudici. La persecuzione naturalmente è avvocato. I sondaggi lo davano in caduta libera e così quando alle 3.32 del 6 aprile 2009 un terremoto sveglia perfino gli abitanti della casa del grande fratello e quando si scopre che un'intera città è stata annientata per Silvio Berlusconi è come se Dio gli avesse teso ancora una volta la mano. Questo terremoto è stato un grandissimo successo. Nessun altro terremoto ha fatto l'ascolto che ha fatto questo. Non può riprendere. Il grande vento è ciò che il governo decide essere il grande vento. Arriva il Papa, arrivederci e grazie, credo, è un grande vento. I giochi del Mediterraneo, i mondiali di nuoto, si fa la protezione civile. La prossima volta che vengo trovati le porto io le veline. Occupati sta roba del terremoto, non è che c'è un terremoto al giorno. Io ti dico sta a dire alle 3.30. Io pure. Ciao. Ciao.